Ci sono anche 250 bambini pugliesi e 50 lucani tra i 7.000 fanciulli che oggi pomeriggio incontreranno Papa Francesco. Provengono da 84 paesi e condivideranno col Santo Padre speranze e preoccupazioni per il futuro. L'incontro è accompagnato dalla pubblicazione dell'Enciclica dei Bambini, libro scritto a quattro mani da Padre Enzo Fortunato e Aldo Cagnoli, con la prefazione di Francesco che scrive «Cari bambini, vi abbraccio e sappiate che il vostro Papa e Nonno farà di tutto perché possiate vivere in un mondo più bello e buono». I giovani sono giunti a San Pietro a bordo di 63 bus speciali e 8 treni straordinari. L'evento è patrocinato dal Di Castero per la Cultura e l'Educazione, è organizzato in sinergia con la comunità di Sant'Egidio, la cooperativa Auxilium, Trenitalia e Bus Italia, uffici scolastici regionali e il sostegno del mondo francescano, della Fondazione Perugia Assisi e della Federazione Italiana Gioco Calcio. Davanti a una società in guerra l'uno con l'altro, dove esistono contrapposizioni, muri ed esclusioni, hanno dichiarato gli organizzatori, una giornata mondiale dei bambini è il segno di un mondo diverso dove c'è posto per tutti, dove abita la pace e la fraternità.